Un giovane diciottenne è stato arrestato a Cetraro dai carabinieri della compagnia di Scalea, con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi abbietti e futili. Il ragazzo è sospettato di aver accoltellato un uomo di 26 anni durante una lite avvenuta la notte di Capodanno nei pressi di un locale notturno a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. L'arresto è stato effettuato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emanata dal GIP del Tribunale di Paola, su richiesta della procura locale. Tale provvedimento segue un'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Scalea e della stazione di Belvedere Marittimo. Nella prima mattinata del primo dell'anno, i militari sono intervenuti in risposta a una chiamata al 112, che segnalava la presenza di un giovane ferito vicino a un locale. Successivamente alle indagini è emerso che il ferimento è avvenuto a seguito di una lite tra alcuni giovani, durante la quale un 26enne è stato colpito da un'arma da taglio vicino agli organi vitali. Il giovane ferito è stato inizialmente trasportato in una clinica locale, dalla quale, a causa della gravità delle lesioni, è stato trasferito in elicottero al policlinico di Catanzaro. Dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva, inizialmente in condizioni critiche, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e successivamente dimesso dieci giorni dopo. Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che alla base del ferimento c'erano provocazioni e minacce da parte del giovane arrestato, nei confronti di un amico della vittima. Anche egli giovane è presente nella discoteca per festeggiare il nuovo anno con la sua ragazza. Il giovane arrestato, interessato alla ragazza, avrebbe rivolto insulti al coetaneo all'uscita del locale, scatenando una violenta colluttazione. Il 26enne sarebbe intervenuto per sedare la rissa, ma è stato minacciato e successivamente aggredito, presumibilmente con un coltello, riportando ferite che, per fortuna, non sono risultate fatali.